Grazie a tutti. Il direttore generale della Confindustria di un giornale importante che si chiama Il Sole 24 ore, ha avuto un ruolo in parecchie società italiane, attualmente è presidente, se non sbaglio, dell'UBS in Italia. Quindi lascio la parola. Grazie a tutti. È una bella iniziativa, sono ben contento che si svolga da noi e poi me ne vado a fare un'altra dichiarazione da qualche altra parte. Anche questo fa un presidente e lo deve fare. Non mi vergogna a farlo, lo deve fare. Ma questa volta mi hanno chiesto di fare una relazione insieme con gli altri relatori e questo mi fa piacere. Sulla cultura della concorrenza in Italia. Premetto che non sono un giurista, sono uno statistico che si è dato all'economia successivamente, però nella mia attività professionale mi sono incontrato parecchie volte con il problema della concorrenza e la cultura della concorrenza. Come è stato ricordato, sono stato direttore generale della Confindustria per 15 anni e quindi ho avuto a che fare in quei momenti anche successivamente. La mia relazione si collega moltissimo a quello che Messier Lasser ha detto con riferimento alla Francia e Soto ha detto al confronto della Spagna, ma credo che i nostri paesi dell'Europa continentale, in particolare, abbiano tutti la stessa storia. La concorrenza l'abbiamo importata, non era nelle nostre convinzioni profonde e l'abbiamo proprio importata dall'estero. La prima apertura di concorrenza l'Italia, ma anche altri paesi, l'Italia in particolare, la ebbe quando aderì necessariamente al piano Marshall, che dava degli aiuti ma imponeva anche di organizzarsi in una maniera da essere aperti agli scambi. E dasce da lì il principio da noi, l'accettazione della concorrenza. Per tanti anni, negli anni 50 e negli anni 60, in particolare, concorrenza e apertura al commercio estero internazionale era la stessa cosa. La costruzione della cieca prima, della comunità economica europea, come si chiamava quella del Trattato di Roma del 1957, sposa la concorrenza, ma sposa la concorrenza fra i paesi per arrivare all'abbattimento delle barriere doganali e per la libera circolazione delle merci delle persone in servizio dei capitali. Questo era uno dei principi che noi avevamo e per noi la concorrenza era il libero scambio a livello internazionale. Gli italiani e soprattutto gli imprenditori, all'inizio, agli anni 50, l'hanno guardata con certa titubanza. A quell'epoca la confindustria era retta da Angelo Costa, che era un liberale, e quindi aveva una predisposizione favorevole al libero scambio. I suoi principi erano sempre a favore del libero scambio, però poi terminavano con sì, però bisogna fare attenzione a difendere quella che è l'industria italiana, che è debole, perché esce fuori da una guerra drammatica e con un paese dove tutti gli stati, lo ha ricordato prima la Serra e sotto per la Francia e per la Spagna, ma tutti gli stati erano interventisti al massimo grado, come lo è stato lo Stato italiano in quella che era l'economia mista, che siamo nati nel dopoguerra. Le industrie di base e i servizi di base erano prodotti direttamente dallo Stato e lo spazio per la concorrenza era relativamente limitato. L'apertura ai mercati internazionali rappresentava una grossa paura, che poi vincemmo tutti quanti, perché la scommessa fu vincente, come ben sappiamo, nei 30 anni gloriosi, come è stato detto dalla serie della crescita economica e l'apertura degli scambi andarono insieme, però questa sembrò essere essenzialmente la principale apertura alla concorrenza. Sembrava che avessimo un po' esaurito tutto quello che dovevamo fare in termini di concorrenza e la prova fu che nel 1961 venne fatta una commissione parlamentare di inchiesta sulla concorrenza in Italia e questa commissione, che era presieduta all'epoca da Tremelloni, Roberto Tremelloni, socialdemocratico abbastanza liberale a favore della concorrenza, e questa commissione andò avanti per alcuni anni, intervistò tutti quanti, era il 1961 al 1963-64 e la conclusione della commissione fu che non c'era un problema della concorrenza in Italia. Assolutamente non si vedeva il problema della concorrenza, venne addirittura preso in considerazione la possibilità di costituire una commissione tecnica per la difesa della concorrenza e la decisione, la conclusione fu che non era possibile affidare dei tecnici la tutela della concorrenza perché la tutela della concorrenza toccava aspetti importanti della politica economica e dovevano essere dei politici, doveva essere la politica quella che garantiva la concorrenza e non potevano essere dei tecnici, oggi abbiamo sentito giustamente che l'autority deve essere separata dal potere politico, separata dal potere di governo, la conclusione del Parlamento italiano di quegli anni fu che era impossibile o se si voleva proprio fare una commissione, una concorrenza, questa dovesse essere un organo del governo, cioè dovesse essere il governo che politicamente assicurava la concorrenza perché doveva assicurare quando e come, se eventualmente bloccare dei cartelli, se eventualmente levare dei monopoli o no perché la tutela del cittadino conservatore era un compito principale da parte dello Stato che la portava avanti caso per caso, decidendo caso per caso. Sono gli anni 60, noi sappiamo tutti che gli anni 60 sono stati per noi gli anni del primo centro-sinistra e quindi della nazionalizzazione dell'energia elettrica, la costituzione dell'Enel, gli anni della programmazione economica, il primo documento di Lamalfa, Pieracini, Ruffolo che portava avanti i documenti della programmazione economica, la prima legge di programmazione economica fissava per legge il tasso di crescere all'economia del 5% e quindi questo era l'obiettivo perché l'economia cresceva tanto, fra il 5% e il 6% all'anno e quindi fissare il 5% sembrava una cosa banale. Il problema stava nella distribuzione del reddito, non stava nella sua produzione perché questo era un fatto che nasceva da sé. Questo è il quadro che ha riguardato l'Italia durante tutto quello che è stato il famoso miracolo economico. Quando vennero intervistati da questa commissione i membri della Confindustria la difesa della concorrenza che la Confindustria non poteva che ammettere era la difesa nei confronti del monopolio dello Stato e della burocrazia. Ma l'idea che si potessero condannare cartelli tra imprese private, accordi tra imprese private era fuori da ogni logica e si continuava a dire ma la concorrenza c'è in Italia perché noi abbiamo abbattuto le barriere doganali fra i paesi dell'Unione Europea quindi noi siamo in concorrenza e si andava verso l'apertura dei mercati, l'internazionalizzazione e quindi siamo tutti quanti in concorrenza. Sognerà aspettare gli anni 70 quando la crisi da petrolio fece naufragare le aspettative di una programmazione economica di stampo relativamente dirigista quando la modifica dei cambi, la fluttazione delle monete, la finanziarizzazione dell'economia generò tali e tanti di quei rovesciamenti che il paese doveva avere nuovi assetti. E qui troviamo nuovamente la Confindustria che si batte per la concorrenza o meglio, diciamolo più francamente, una persona che è stato casualmente eletto presidente della Confindustria ma che non faceva parte del mondo industriale. Guido Carli viene eletto, sarebbe meglio dire nominato da Agnelli, come presidente della Confindustria avendo lasciato la guida della Banca d'Italia, di cui è stato governatore, Guido Carli è sicuramente un liberale sicuramente la persona che ha ottenuto il ministero del commercio con gli esteri negli anni 50 cioè negli anni in cui si è iniziata l'apertura al commercio internazionale e all'Unione Europea Guido Carli diventa presidente della Confindustria Guido Carli ha un pallino dentro la sua testa che è quello che poi abbiamo noi quando pensiamo a concorrenza la concorrenza è qualcosa che è imposta dall'esterno. Per tutti gli anni in cui lui è stato governatore della Banca d'Italia ha guidato la politica economica italiana sotto il vincolo della bilancia dei pagamenti la bilancia dei pagamenti era il mantra principale se la bilancia dei pagamenti si avvicinava da surplus a zero e se l'inflazione saliva si interveniva e se no si andava avanti e così lui vede la concorrenza come uno stimolo per le imprese è il primo che la vede in questi termini e propone lo statuto delle imprese se qualcuno va negli archivi di Confindustria la ritrova tutti i dibatti dell'epoca scrive lo statuto delle imprese allora è ovvio che gli imprenditori sono molto affascinati all'idea di avere un gran commedia di Stato che presenta lo statuto, i diritti delle imprese, questo è interpretato così dalla Confindustria peccato che fra i primi diritti dello statuto Guido Carli mette il divieto di cartello il divieto di abuso dominante e quindi la lotta alla concorrenza e ovviamente un grosso capitolo contro le imprese pubbliche e contro la burocrazia Guido Carli resta famoso per i lacci e lacciuoli dell'economia italiana la concorrenza la vede limitata soprattutto dalla ingerenza della burocrazia legge politica fra parentesi dobbiamo ricordare che se negli anni 50 e 60 noi vogliamo ricordare un grande liberista che ha lottato per la concorrenza Ernesto Rossi in realtà ha tuonato contro il legame tra poteri economici e poteri politici non ha mai tuonato contro accordi tra imprese private ha sempre parlato del rapporto e il rapporto fra politica e economia è quello che è importante anche in questo statuto dell'impresa gli imprenditori quando leggono lo statuto dell'impresa dicono sì vabbè sarà pure interessante però il problema degli anni 70 sono alti bisogna abbassare le tasse, bisogna togliere il cuneo fiscale e quant'altro e quindi chiedono a Carli di mettere questo documento in allegato a un altro documento più importante quello in cui si chiedono un po' di soldi allo Stato e questo fa la fine di questo statuto dell'impresa che diventa un allegato e non va più avanti e quindi bisognerà aspettare gli anni 80 gli anni 80 quando abbiamo un accordo importante è cambiato intanto alla prospettiva internazionale sappiamo tutti che è finita l'epoca della grande inflazione si comincia a fare la lotta all'inflazione salgono i tassi di interesse c'è l'Unione Europea che da comunità economica europea sta diventando Unione Europea porta la concorrenza come un elemento fondamentale un commissario fa mirta all'Unione Europea negozia con il ministro del tesoro italiano Benjamina Andreatta lo smantellamento del sistema delle partecipazioni statali attraverso la via più semplice il divieto per lo Stato di ricapitalizzare le partecipazioni statali cosa che significa la morte delle partecipazioni statali perché si trovano in situazioni di forte difficoltà e nasce da lì quelli che sono i primi approcci verso la concorrenza in Italia fino ad arrivare alla costituzione dell'antitrust dopo la caduta del muro di Berlino quasi emblematico ma insomma mi sembra un fatto anch'esso da sottolineare dopo la caduta del muro di Berlino c'è da noi la costituzione dell'antitrust che è un passo in avanti fondamentale che abbiamo fatto questa situazione non vuol dire che da noi la cultura della concorrenza sia veramente diffusa nel 2006 non ero più in Confindustria mi è capitato di dare una mano al Presidente della Confindustria Montezemolo e gli organizzai il convegno sulla concorrenza nel 2006 convegno peraltro purtroppo noto per la rimonta che Berlusconi fece utilizzando quel convegno per attaccare gli imprenditori schierati a sinistra e quindi ricominciò la risalita ma ahimè non era questo lo scopo del convegno il convegno era per sancire l'importanza della concorrenza ebbene in quel convegno facemmo anche alcune indagini presso la popolazione e la concorrenza era il merito la concorrenza da parte dei cittadini italiani era considerata un fatto positivo senz'altro però poi quando gli si chiedeva cosa pensavano della concorrenza nei servizi pubblici la larga maggioranza degli italiani era contraria era contraria la concorrenza nell'ambito dei trasporti pubblici era contraria la concorrenza nell'ambito della scuola era contraria alla concorrenza assolutamente i servizi pubblici devono rimanere in monopolio e avevamo fatto anche un'altra domanda siccome tutti avevamo risposto che sì il merito era importante avevamo chiesto che cosa pensavano se era lecito secondo loro raccomandare i propri figli per lavoro per una posizione e la grande maggioranza è esposta sì che è lecito raccomandare i propri figli anzi che è così che bisogna fare e questo credo che la dice lunga in quella che è la la concorrenza il concetto di concorrenza nel nostro paese il concetto di concorrenza è visto più diciamo più nei rapporti tra le imprese che nei rapporti tra il consumatore il cittadino e le imprese in Europa continentale quindi anche in Italia abbiamo una quantità di leggi che difendono il lavoratore e le imprese pochissime leggi che difendono il consumatore pochissime se si va negli Stati Uniti d'America i giornali sono pieni di notizie che ti dicono come un consumatore ti deve difendere se si va in Europa vedi tante notizie che ti dicono dei lavoratori che stanno perdendo il loro lavoro perché una azienda è fallita magari per la concorrenza di un cinese piuttosto che per la concorrenza di un nuovo tecnologia che sta cambiando la logica del consumatore è di secondo livello prima viene il lavoratore il cittadino è prima lavoratore e poi consumatore ma questo anche nella dialettica normale se voi parlate con la gente uno dice sì la concorrenza ho capito ma prima io devo lavorare e poi dopo divento consumatore scelgo per la concorrenza ha una sua logica non voglio negarlo ma è proprio lì la filosofia e se ci pensate le prime organizzazioni dei consumatori fra le prime organizzazioni sono i sindacati quando io ero in Confidusa mi trovavo i sindacati che facevano l'organizzazione dei consumatori non ci volevo credere perché diciamo ma allora la faccio anch'io la difesa del consumatore perché voi siete produttori quanto è noi avete la logica della difesa della struttura che offre non avete la logica della difesa di chi compra e non gli interessa della struttura che offre allora è ovviamente il sindacato che è molto dialettico e bravo diceva no ma se la struttura che offre è molto brava organizzata bene la qualità bla 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 poi il consumatore ne ha un grande beneficio cosa che mi dicono anche i miei imprenditori mi dicevano ma guardate che se io non mi levi la concorrenza di quei cinesi che sono dei disgraziati che fanno i prodotti senza rispettare le regole che inquinano e che magari mettono dei prodotti di bassa qualità io al consumatore gli do un prodotto per carità quindi se vuoi difendere il consumatore devi difendere me non è questa la logica non è questa la logica ma noi abbiamo ancora questa logica e dico noi intendo Italia ma intendo tutta l'Europa continentale che ha ancora che ha ancora questo questo handicap cosa vedo ancora di ostacoli grossi alla cultura e alla concorrenza uno mi viene da quella indagine che abbiamo fatto sulle raccomandazioni che se parliamo a una famiglia che raccomanda il proprio figlio non è corretto ma ci sembra quasi naturale ma questo è figlio di quello che viene definito il capitalismo relazionale perché se il genitore raccomanda il proprio figlio poi il membro di un'azienda raccomanda quella altra azienda di cui ha un amico o ha un piccolo interesse al suo interno e noi anche qui ripeto non siamo soli perché non solo in Francia ma prima ho sentito la SEL che faceva un po' il diciamo le lodi del sistema tedesco io non condivido trovo la Germania fortemente chiusa alla competizione basta guardare come i tedeschi comprano i loro prodotti e poi forse pensano di comprare anche quelli degli altri sappiamo tutti che ci sono delle lobby in mezzo per dirne una banale se uno vuole vendere dei prodotti di edilizia c'è una lobby di architetti naturali dove non si passa se uno non passa attraverso di loro e quando uno va a vedere i lender perché lo Stato magari è liberale ma i lender non ci pensano proprio per niente essere liberali hanno la loro brava proprietà nelle imprese e nelle banche e pensano allo sviluppo all'interno l'Europa continentale è molto simile a questo e c'è questo capitalismo relazionale che deve essere spezzato l'Italia ne ha avuto un numero abbastanza elevato dal famoso salotto buono ai conflitti di interesse che sono stati evocati di un ex presidente del consiglio che resti ex questi conflitti di interesse non sono conflitti di interesse vengono considerate convergenze di interesse sono considerate fatti positivi perché ci si mette insieme e ci si organizza meglio ecco questi devono essere spezzati e come devono essere spezzati c'è un grimaldello che da noi dovrebbe poter essere usato a partire dall'estate scorsa ma la legge è stata molto blanda ed è il principio della corruzione tra privati che il nostro paese si è rifiutato di introdurre malgrado le Nazioni Unite hanno mandato direttive siamo stati condannati perché ancora non ritenevamo un reato la corruzione tra privati ma la corruzione tra privati è uno strumento per sciogliere quelli che sono legami di interessi che vanno dall'alto perché a volte noi vediamo i consigli di amministrazione come elemento di capitalismo relazionale ma scendiamo a basso agli uffici acquisti scendiamo ai rapporti col sistema bancario con tutti i rapporti tra le banche tra le imprese sono spesso legati a uno scambio di favori a uno scambio di favori reciproci che in altri paesi si chiama corruzione noi abbiamo introdotto il principio della corruzione tra privati con una legge del governo Monti e la Severino peccato che questa corruzione deve essere denunciata solo da una delle due parti perché se no non è il reato ma due che si mettono d'accordo per corrompersi ci sono due interessi è solo quando uno non mantiene il patto che eventualmente l'altro lo va a denunciare ma quello non ci interessa quello che non quello che ci interessa sono quelli che invece il patto l'hanno mantenuto e si sono tenuti gli interessi il reato deve essere un reato punibile d'ufficio perché noi ci lamentiamo molto della corruzione che purtroppo c'è in Italia nel settore pubblico ma se noi non leviamo la corruzione nel settore privato come possiamo toglierla nella corruzione tra il privato e il pubblico non è possibile perché se due imprese colludono e hanno al loro interno un sistema di mazzette reciproche per farsi acquistare dei beni o dei servizi l'una con l'altra faranno lo stesso quando poi entrano in contatto con un'impresa pubblica perché dovrebbero diventare oneste quando lo fanno con un'impresa pubblica e allora se noi vogliamo fare la lotta alla corruzione dobbiamo veramente fare la lotta alla corruzione in primis nel vasto mare magnum del settore privato dove la corruzione purtroppo c'è non è chiamata corruzione è scambio di amicizie però è corruzione e questa secondo me va condannata e infine una considerazione con riferimento alle autorità ho sentito dire dal dottor Nardone che la insufficienza della legge sulla concorrenza annuale da parte del governo ed è vero io sono anche vicepresidente della Sonima e con la Sonima abbiamo costruito un gruppo di lavoro sulla riforma delle autoriti e in questo gruppo di lavoro della riforma delle autoriti abbiamo cercato di mettere insieme alcune considerazioni di buon senso ma abbiamo anche chiesto che le osservazioni che l'antitrust fa sulle leggi italiane debba avere una risposta da parte del governo obbligatoria e non semplicemente debba avere una risposta cioè si debba spiegare perché il governo e il Parlamento quindi di conseguenza non accettano quello che l'antitrust dice o se no se non c'è questa risposta bisogna che le osservazioni si trasformino automaticamente in leggi in maniera tale che ci sia da parte dell'autorità dell'antitrust una sua capacità di incidere sul sistema legislativo e di poter effettivamente collaborare con il Parlamento che e su questo sono d'accordo con quello che il dottor Nardone ha detto non è da noi il difensore del consumatore ma se vogliamo di difensore del consumatore in Italia ce ne sono pochi pochissimi spero che questo convegno aiuti in quella strada grazie grazie dottor Cipolletta adesso sentiamo Luca Sanfilippo che è General Council di Sky Italia dal 2003 e componente del Senior Executive Committee di Sky Italia dirige un gruppo di 20 giuristi interni riportando direttamente all'amministratore delegato laureato in giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma ha una specializzazione in Business Administration a Bocconi di Milano sentiamo io sono qui in quanto Presidente della Camera di Commercio Internazionale e quindi ringrazio intanto gli organizzatori del convegno anche perché mi sembra che non solo il tono ma il livello delle discussioni che ho ascoltato fino adesso sono molto alte e molto interessanti abbiamo avuto oggi l'agio di utilizzare di partire da una prospettiva storica e secondo me questo tante volte aiuta a rimettere in fila i problemi e magari anche le soluzioni abbiamo parlato di cultura della concorrenza in un modo non non usuale nei convegni a cui mi capita di partecipare dicevo sono qui in quanto Presidente della Camera di Commercio Internazionale e sono molto lieto di poter parlare di un tema che è molto caro alla base associativa della Camera di Commercio Internazionale abbiamo lavorato molto soprattutto a livello europeo ma anche a livello italiano nella nostra commissione concorrenza tra l'altro insieme anche alla Sonime molto spesso su questo tema dei programmi di compliance all'interno delle imprese compliance sul diritto antitrust ci è sempre sembrato che questa attività sui programmi di compliance fosse un elemento importante proprio per la diffusione di una cultura della concorrenza con condivisioni di esperienze e di best practices e devo dire che appunto nell'ambito della nostra base associativa vedo anche qui alcuni rappresentanti delle imprese soprattutto le grandi imprese le imprese di grandi dimensioni penso alle banche penso alle imprese del settore dell'energia hanno sviluppato questi programmi di formazione interna all'interno delle loro aziende molto seri molto molto efficaci sia per la tutela dai problemi di concorrenza ma anche per come dicevo per la diffusione di una cultura antitrust questa sensibilità l'abbiamo cominciata a verificare anche all'interno delle autorità di concorrenza in Europa e in altre parti del mondo perché in effetti ed è questo un po' il lato dell'advocacy che anche vediamo svilupparsi nell'ambito delle organizzazioni che sono chiamate a fare i watchdog come si diceva prima i guardiani del tutelo della concorrenza all'elemento della deterrenza dato dalle sanzioni dagli interventi si comincia a capire che deve esserci un elemento invece di diffusione della cultura di prevenzione della creazione di situazioni che potenzialmente danno luogo a delle violazioni in effetti se uno vuole misurare il grado di successo di un'autorità di concorrenza lo si può misurare con il livello delle sanzioni ma si può anche misurare in funzione dell'effettiva apertura dei mercati che si riesce a realizzare in un dato territorio ora questa idea della Camera di Commercio Internazionale di spingere molto sull'adozione di programmi di compliance antitrust dicevo si è coagulata a livello per esempio europeo ma anche al di fuori dell'Europa con attività analoghe anche delle autorità antitrust per cui abbiamo avviato un dialogo proficuo con la Commissione europea che ha portato la Commissione che pure fa questo mestiere dal 1957 e effettivamente dal 62 a pubblicare una prima descrizione per tutti di che cosa sono quali sono le regole da non violare della concorrenza sul proprio sito internet nel 2011 ed era un testo che abbiamo scritto insieme abbiamo suggerito ovviamente la Commissione ci ha messo del suo e quindi c'è stata questa attività nel 2011 anche l'Office of Fair Trading in Inghilterra è andato nella stessa direzione l'autorità francese ha diciamo realizzato uno schema di programmi di compliance che se rispettano le caratteristiche indicate dall'autorità di concorrenza francese hanno diritto a determinati benefici o comunque possono essere considerati come programmi di compliance seri c'è stato anche un caso in cui insieme a delle sanzioni non so dirvi se ridotte o meno però l'autorità di concorrenza ha anche ordinato all'impresa destinataria della decisione finale anche l'obbligo di dotarsi di un programma di compliance interno stessa cosa abbiamo visto movimenti in questi ultimissimi mesi e anni da parte del bureau della concurrence canadese e dal department of justice americano abbiamo iniziato a vedere un qualche movimento anche dalla nostra autorità nazionale italiana c'è stata qualche dichiarazione anche del suo presidente quindi nell'ambito delle attività di advocacy che come abbiamo visto sono moltissime quindi immaginiamo che ci sarà spazio anche per questa parte questo dialogo con la concorrenza è servito per fare anche un confronto tra il diritto sostanziale dell'antitrust tra i vari paesi e verificare quali sono le best practice in questo settore ripeto quel dialogo con la commissione europea visto anche coinvolti non solo la ICC che rappresento ma anche l'associazione dei direttori legali delle imprese europee e l'associazione business europe alla fine di questo dialogo di questa attività fatta dalle imprese a livello europeo tra qualche giorno ICC presenterà a Varsavia nell'ambito del dialogo anche con l'international competition network presenterà una specie di manuale che viene chiamato toolkit su come si fanno e come devono essere strutturati per essere considerati seri un po' lo schema è quello dell'autorità francese lanciato dall'autorità francese per tutela dalla concorrenza i manuali di compliance per le imprese qual è l'obiettivo l'obiettivo che ci proponiamo come Camera di Commercio internazionale è di fare degli strumenti di mettere in piedi degli strumenti fatti dalle imprese per le imprese con l'obiettivo che siano utilizzati non solo dalle imprese di grandi dimensioni e che questi strumenti abbiano siano stati condivisi con le autorità con le principali autorità di concorrenza questo ripeto ha il vantaggio di non tanto di proteggere le imprese dall'aumento delle sanzioni o di ottenere degli sconti di pena però quello che le imprese hanno immaginato è che la diffusione della cultura della concorrenza e quindi anche della tutela della concorrenza al loro interno serve anche a trovare prima delle autorità di concorrenza i problemi e quindi evitare delle situazioni complicate o a volte noi immaginiamo la situazione delle linee e quindi può diventare anche un tema dove se tu sai prima di altri dove sono i problemi puoi anche utilizzarlo in un'ottica diciamo di vantaggio competitivo ovviamente perché questi strumenti funzionino devono essere reali devono essere seri e ci vuole un commitment serio da parte dei più alti gradi del management interno delle aziende quindi questa era l'informazione noi appunto abbiamo realizzato questo toolkit lo abbiamo condiviso con la commissione europea e indubbiamente lo siamo interessati a condividerlo con l'autorità anche italiana e poi a presentarlo anche qui in Italia in un'occasione degna e funzionale sono state dette però molte cose interessanti oggi quindi non posso esimermi dal dire anche la mia in effetti sul tema della cultura della concorrenza di come possiamo continuare a diffonderne un'applicazione effettiva in Italia oggi abbiamo avuto un po' di spunti insomma il presidente Lasser ci ricordava che in Francia venivano da una situazione da una cultura corporativa anche noi abbiamo avuto vent'anni di cultura corporativa vent'anni non particolarmente diciamo felici e poi ci ricordava il dottor Cipolletta poi abbiamo avuto l'economia di stato quanto meno mista anche in Italia e quindi il motivo per cui la concorrenza è un corpo estraneo nel nostro paese deriva giustamente da questo e il motivo per cui è stata sempre accoppiata all'apertura dei mercati è perché fino al 1990 come si è ricordato non c'era una concorrenza un diritto della concorrenza italiano la concorrenza il diritto della concorrenza e la sua tutela c'era in Italia nella misura in cui si doveva applicare si poteva applicare il trattato della comunità europea e quindi doveva esserci il pregiudizio al commercio intracomunitario altrimenti non ci poteva nemmeno essere la tutela della concorrenza quindi c'è stato un collegamento automatico tra tutela della concorrenza e commercio intracomunitario credo che questo sia il motivo e la difficoltà con cui lo abbiamo superato poi negli ultimi anni da quando abbiamo avuto una nostra legge di tutela della concorrenza si è detto che noi invece come probabilmente la Spagna veniamo da una cultura cattolica e quindi diciamo il meccanismo della premiazione del successo non ci sarebbe naturale quindi ci spostiamo dal tema della struttura che giustamente spiegava bene la struttura economica il dottor Cipolletta a quello diciamo delle sovrastrutture culturali in realtà anche il diritto della concorrenza comunitario all'inizio aveva un'impostazione mi ricordo appunto dei colleghi americani che lo dicevano spesso ma voi in Europa avete un'impostazione cattolica perché il meccanismo della notifica preventiva degli accordi tutti accordi notificati preventivamente a Bruxelles è proprio un meccanismo vieni confessati poi io ti do la soluzione e vai a fare business questo direi come mio commento più che un approccio cattolico a me sembra un approccio borbonico ti serve l'autorizzazione del potere pubblico per fare business in modo automatico e invece l'etica protestante ci diceva oggi il presidente Lasser è invece in linea con quello che poi abbiamo avuto dal 2003 in Europa con la modernizzazione cioè ciascuno si fa il suo self assessment ciascuna impresa si fa la sua autovalutazione su gli accordi se sono o non sono in violazione delle regole di concorrenza e quindi ha anche la sua responsabilità quindi ognuno si prende le sue responsabilità come fare ci diceva il vicepresidente Soto come fare in modo che la concorrenza torni a essere diciamo una moneta spendibile in una situazione di economia difficile di certamente oggi in Italia la cultura della concorrenza ma soprattutto l'applicazione della concorrenza qualche problema ce l'ha indubbiamente io qualche vedo anche dei nuovi ostacoli dei nuovi inciampi certamente l'attribuzione alla GCM di tante competenze diverse dalla concorrenza non è qualcosa che aiuta l'applicazione della concorrenza in Italia forse anche quello che abbiamo sentito oggi anche la proliferazione l'inflazione dell'attività di segnalazione alla fine è anche un momento in cui l'autorità invece di svolgere la sua funzione di applicazione della concorrenza segnala al Parlamento di agire quindi invece di agire lei segnala a qualcun altro di agire che è forse appunto di nuovo la segnalazione anche di una sua di una sua debolezza lo stesso discorso si può fare anche sul ricorso alle indagini conoscitive anche questo è un tema di cui si potrebbe discutere però ripeto come si può fare in un momento come questo in un momento economico difficile come questo per promuovere la concorrenza come bene comune e qui certamente siamo tentati in un momento difficile di giocare di stare nel quadro della cultura solidaristica verso la cultura del successo ricordava il dottor Cipolletta che addirittura appunto questa cultura solidaristica quando è intelligente addirittura si trova il sindacato che si occupa anche della tutela dei consumatori però forse era un modo anche per occuparsi di e promuovere la responsabilità sociale dell'impresa in qualche modo però in un momento in cui si perde il lavoro e in un momento in cui più che posti di lavoro persi soprattutto quello che noi abbiamo e sperimentiamo oggi sono i posti di lavoro che non si creano quindi una società bloccata ecco in questo quadro io credo che la concorrenza potrebbe essere l'applicazione del merito e quindi secondo me se si rifà quella inchiesta quella survey del 2006 le cose sono cambiate e la cultura del merito applicata al mercato porta alla promozione della concorrenza grazie Luca allora sentiamo il nostro ultimo relatore Paolo Martinello che è presidente di altro consumo l'associazione indipendente di consumatori dal 1995 grazie dunque stando all'orario io dovrei finire il mio intervento in due minuti non parlerò 20 minuti vi chiedo qualche minuto di pazienza giusto per dire alcune cose cercando di alleggerire un po' perché a quest'ora del pomeriggio il ruolo di un'associazione di consumatori nella cultura della concorrenza lo si può vedere da diversi punti di vista intanto credo che per misurare la cultura della concorrenza in un paese gli aneddoti sono meglio dei dati e delle statistiche e quindi ve ne racconto due o tre primo già il professor Benacchio parlava dei notai e Dottor Cipolletta ricordava di un convegno di confindustria al quale credo di aver partecipato nel 2006 sulle sulle liberalizzazioni e la concorrenza nelle professioni dove a fianco di un coro ovviamente favorevole tra cui io e i consumatori in generale alla liberalizzazione delle professioni c'era anche un povero presidente del consiglio notarile il quale disse le seguenti parole le regole della concorrenza alle professioni non si possono applicare perché la professione è fatta dall'uomo e la concorrenza è fatta dalle imprese questo è un quadretto di cultura secondo quadretto gli stessi notai eravamo nel periodo delle liberalizzazioni più o meno improvvisate più o meno di successo venne fuori un emendamento in Parlamento del governo del ministero della giustizia che pensò di proponeva di eliminare l'obbligatorietà dell'atto notarile per atti immobiliari al di sotto di un certo valore il risultato era che potevo comprare un box o un piccolo rudere mi pare fosse 50 mila euro il valore atti al di sotto di quel valore per bene al di sotto di quel valore potevano essere fatti davanti ai segretari comunali uscì questa proposta di emendamento combinazione il giorno dopo c'era il congresso nazionale dei notai il professor Benacchio diceva di essere stato fischiato e insultato anch'io ho avuto la mia bella esperienza perché invitato a questo congresso alla presenza di 900 notai entrò il sottosegretario al ministero dei grazie e giustizia onorevole bianchi del partito dei comunisti italiani presieduto da di liberto che era ministro della giustizia in quel momento il quale rassicurò i notai italiani che quell'emendamento che non si era capito bene da dove era saltato fuori era stato prontamente nel corso della nottata ritirato anche perché come giustamente avevano sottolineato i notai avrebbe causato la perdita di 15.000 posti di lavoro tra i dipendenti dei notai e l'onorevole bianchi fu accolto in questo congresso alla presenza di 900 notai con una standing ovation e questo è un altro quadretto del nostro paese e della cultura e anche di quello che diceva Cipolletta cioè della diciamo della cultura del lavoro contrapposta alla cultura del consumo e del consumatore il terzo quadretto riguarda l'ABI ed è quando all'indomani delle misure di liberalizzazione brevi fuggevoli mi verrebbe da dire incompiute ma felici nella loro essenza in quella brevissima stagione che conombe l'Italia nel 2006-2007 tra le misure introdotte vi furono quelle che miravano a facilitare la mobilità dei consumatori da una banca all'altra sia i titolari dei conti correnti che i titolari dei mutui e una delle regole per certi versi banale ma molto chiara e anche molto popolare è quello fu anche un momento in cui le liberalizzazioni e la concorrenza ebbero un tasso di popolarità forse anche un po' di populismo se vogliamo ma certamente anche un tasso di popolarità elevatissimo tra queste misure ci furono quelle che stabilirono la gratuità o meglio il divieto di imporre costi legati alla chiusura di un conto corrente così come al trasferimento di un mutuo ebbe una litigata di tre ore durante un convegno con Zadra allora direttore generale dell'ABI il quale accusò queste misure di appunto populismo di demagogia nulla può essere gratuito stabilire e impedire a un'impresa di far pagare un servizio è contro il mercato e non avevano nulla a che vedere con la liberalizzazione tentai di convincerlo che non era così perché la cultura della concorrenza e la concorrenza in generale non è la patria delle non regole casomai è la patria delle buone regole certamente della eliminazione delle regole sbagliate e tutto ciò che poteva contribuire a facilitare la mobilità perché non esiste nulla di gratuito su questo siamo perfettamente d'accordo l'operazione di surroga di un mutuo costa il problema è se quel costo va in qualche modo spalmato sul costo del servizio e sul tasso di interesse in generale sul costo che il consumatore paga per acquistare un prodotto piuttosto che un altro una banca piuttosto che un altro o se deve gravare nel momento in cui la concorrenza deve giocare e nel momento in cui quel costo o quell'ostacolo può o meno far giocare il mercato o impedire che il mercato giochi ecco il valore di quelle poche semplici regole era questo ma alla fine devo dire che Zadra si convince che era giusto questo il quarto quadretto riguarda i taxi chi è che era stato sul taxi il presidente Lazer anch'io quando vado ad altro consumo in taxi in genere il taxista mi riconosce o capisce perché per cosa lavoro sono naturalmente apprezzamenti per tante cose ad eccezione ovviamente di quando parliamo di taxisti su questo ci siamo fatti ormai ho rischiato anche devo dire più volte di interruzione di pubblico servizio nei confronti dei taxisti bene naturalmente è tutto bene siete bravissimi fate delle cose eccezionali però sui taxi non avete capito niente sui taxi no perché i taxi un po' come i notai un po' come i farmacisti un po' come certe imprese eccetera eccetera no lì non funziona funziona bene se le assicurazioni no nei taxi non funziona la concorrenza non va bene da cui il famoso brocardo la concorrenza va sempre bene ad eccezione che dove io lavoro che io sia avvocato che io sia che io sia ecco quindi questo è il primo ruolo di un'associazione di consumatori è proprio come dire avere questa forza di rappresentanza presso le istituzioni non solo presso l'autorità ovviamente che è un partner per noi preziosissimo ma anche presso le istituzioni governo parlamento imprese associazioni di imprese per proporre le giuste misure che servono e laddove servono per fare in modo che il consumatore aumenti la possibilità di scelta abbia meno vincoli possa trasferire più facilmente i propri conti correnti polizze assicurative mutui eccetera tutto ciò in Italia ha ancora bisogno di tantissime misure di tantissime iniziative devo dire sono d'accordo con chi ha detto prima di me che in Italia a differenza forse che in Francia se ho capito bene quel poco che è stato fatto o tanto a seconda del punto di vista che è stato fatto finora nel senso di incentivare la concorrenza certamente non l'hanno fatto i parlamentari il Parlamento è stato oggettivamente purtroppo un ostacolo all'introduzione forse anche per il sistema elettorale adesso è lungo analizzare le ragioni però certamente le lobby in Italia hanno pesato in questi ultimi anni più nel Parlamento che sul governo ricorderete tutti che quella ripeto brevissima felice incompiuta e anche aggiungerei rinnegata da chi la fatta stagione delle liberalizzazioni fu fatta in una nottata di consiglio di ministri segreto che il mattino dopo presentò una quarantina di misure di liberalizzazione all'insaputa di quasi tutti noi consumatori qualcosa sapevamo ma insomma di fatto segretamente per evitare che ci fossero tutte le notorie contromisure eccetera ma anche durante il governo Monti più recentemente alcune misure sono state sostanzialmente bloccate dal Parlamento adesso sarebbe l'ultima questo perché in effetti in Italia il sistema parlamentare è fatto in modo tale per cui nonostante paradossalmente una legge elettorale che come sapete ormai dovrebbe essere come dire nelle mani del principe per la scelta dei deputati però nonostante ciò i deputati hanno comunque un loro elettorato di riferimento e spesso l'elettorato di riferimento sono le categorie professionali economiche abbiamo fatto un convegno due anni fa a Roma come altro consumo sul diritto d'autore e internet tutte diciamo le nuove tecnologie e quindi le nuove forme di accesso alla cultura abbiamo avuto la sala presidiata da una brillantissima deputata del pdl che si è portata dietro 150 venditori di dischi che rischiavano di chiudere quindi voglio dire c'è ancora questo meccanismo del parlamentare che è il portavoce di una lobby piccolo grande che sia quindi primo ruolo istituzionale e diciamo così di rappresentanza degli interessi dei consumatori il secondo è il ruolo dell'informazione dei consumatori se vogliamo il ruolo più quotidiano altro consumo non solo altro consumo ma forse altro consumo più di altri ha fatto della sua storia e della sua ragione d'essere l'informazione dei consumatori utile per scegliere quindi facciamo mille test comparativi all'anno centinaia di indagini prezzi confronti tutto questo presuppone banche dati sul sito di altro consumo c'è questa attività continua ormai da anni per il confronto delle polizze dei conti correnti dei farmaci dei prodotti dei prezzi dei supermercati dei trasporti dell'energia delle bollette tutto questo è un'attività a cui oggi hanno accesso migliori consumatori perché sono 400.000 famiglie italiane socie della nostra organizzazione ma oltre a loro poi tutti gli altri che in qualche modo cercano ormai i comparatori sono diventati di moda però noi abbiamo l'orgoglio di aver costruito in Italia il primo comparatore di tariffe RC auto in Italia nel lontano 2003 lo costituimmo con un piccolo finanziamento pubblico derivante dalla multa antitrust erogata alle compagnie assicurative che avevano fatto cartello quella che resta credo ancora oggi la più forte la più grossa multa la più forte sanzione 350 milioni di euro a 39 compagnie assicurative che l'hanno anche pagata alla fine e parte una piccolissima parte dei quali i fondi finirono a finanziare attività utili ai consumatori che è un po' quello che accennava anche il presidente la SER che è una formula che abbiamo inventato in Italia perché l'abbiamo inventata in Italia nel 2000 insieme all'autorità antitrust in una legge finanziaria fu messo questo piccolo comma che poi cominciò ad essere applicato nel 2003 oggi in Italia è l'unico paese europeo ed è una cosa che ci invidiano in tutta Europa è l'unico paese europeo dove le multe antitrust o quantomeno una parte delle multe antitrust vanno a finanziare progetti diciamo a vantaggio dei consumatori danneggiati dalle violazioni per le quali quelle multe sono state irrogate ed è un modello che andrebbe secondo me seguito anche nell'ottica di sviluppare la cultura della concorrenza perché è chiaro che un consumatore apprezzerà e capirà di più il valore della concorrenza tanto più avrà la prova del vantaggio che lui ha da un mercato concorrenziale io dico tutti i giorni a mia figlia che ha 22 anni e che ha avuto la bella idea di finanziarsi con uno stupendo napoletano che 30 anni fa la loro storia probabilmente sarebbe stata quasi impossibile oggi lei si può permettere di andare una settimana sì una settimana no a Napoli con un volo low cost e magari anche scegliere se preferisce il treno ad alta velocità spendendo dai 20 ai 30 euro vivendosi una vita che 20 anni fa era evidentemente inimmaginabile se non a costo di sacrificio e questo è quello che poi noi facciamo con i nostri un po' lo stesso ragionamento se vogliamo con i nostri consumatori con i nostri associati con i dati e poi anche con la prova del fatto che nel settore della tecnologia i prezzi sono scesi del 30% negli ultimi 5 anni nel settore dei voli dei trasporti dei viaggi pure negli altri settori i prezzi sono cresciuti quindi dove c'è stata una sane liberalizzazione i risultati si sono evidentemente visti e si sono trovati accenno velocemente a un altro ruolo perché è fondamentale anzi è anche poi il tema del convegno soprattutto di domani a ruolo che le associazioni dei consumatori giocano sul piano dell'enforcement fino adesso abbiamo parlato un po' della cultura e del promuovere un mercato concorrenziale ma naturalmente poi c'è un'attività enorme su piano dell'applicazione delle regole e del ruolo che possiamo svolgere in questo settore a partire dal primo caso autoscuole del 1996 quando denunciamo il cartello dei prezzi dell'autoscuola in Italia che furono sanzionate dall'autorità antitrust via via agenzie immobiliari nel 2004 i panificatori di Roma nel 2008 i libri di testo nel 2007 l'industria della pasta nel 2009 decisione che chi non avesse letto la consiglio caldamente perché questa cosa qua è la summa di che cos'è un'indagine antitrust che cos'è un'indagine antitrust è qua quando la finanza entra negli uffici di 32 industrie della pasta e rovista nei cestini della carta straccia per trovare le prove delle intese e le trova e le sanziona e via via l'RC auto del 2000 che ho già citato 39 compagnie fino ai casi di questi giorni siamo parte interessata nel procedimento traghetti per la Sardegna sospetto cartello nel 2010 aumenti dei prezzi dall'80 al 100% da un anno all'altro si è chiusa l'istruttoria a giorni e settimane avremo la decisione finale come Beuc che è l'organismo europeo dei consumatori di cui sono stato presidente fino a pochi mesi fa siamo riconosciuti parte terza nel procedimento Google particolarmente interessante sospetto di abuso di posizione dominante nell'attività del motore di ricerca vi ho distribuito nella cartelletta un elenco di documenti che fanno poi approfondimenti su queste cose che vi sto accennando molto velocemente ecco questo è caso Roche-Novaro altro caso pendente davanti all'autorità antitrust italiana dove altro consumo è anche lì ammesso come parte terza interessata ecco questo è in estremissima sintesi l'enforcement the public la collaborazione di un'associazione di consumatori con il public enforcement in che modo? segnalando dando informazioni informazioni raccolte in che modo? dai consumatori consumatori sono i primi controllori delle piccole ma forse a volte grosse distorsioni del mercato attraverso le loro vite quotidiane e poi le nostre indagini solo altro consumo riceve 470.000 contatti all'anno siamo a 1200 1300 al giorno consumatori che ci chiamano ci scrivono ci pongono dei problemi delle domande ma nello stesso tempo ci segnalano delle cose delle problematiche e poi le nostre indagini milioni di prezzi raccolti indagini continue da qui viene fuori a volte il caso Traghetti è nato in questo modo l'antitrassi è mossa in modo particolarmente veloce perché già prima che iniziasse la stagione quasi noi avevamo già i dati che i consumatori ci mandavano ho comprato un biglietto che costa il doppio di quello che lo pagavo sei mesi fa come è possibile ho chiesto a un'altra compagnia stessa cosa c'è un cartello non lo so questo sarà all'antitrust di indagare però avere questa come dire polso del mercato è un ruolo evidentemente prezioso per tutti per noi e per le autorità che devono svolgere questo tipo di indagini e poi naturalmente battuta finale con questo chiudo lo strumento principe dell'enforcement è forse sarebbe meglio dire dovrebbe essere la class action di class action si parla da tempo e si comincia anche a praticare mi piace ricordare che in Italia si è iniziato a parlare di class action esattamente all'indomani della condanna antitrust contro le rc auto le compagnie nel mercato nel settore rc auto partirono centinaia di migliaia di cause individuali fu un disastro totale dal punto di vista sia da tutti i punti di vista per le imprese per i consumatori per i costi per i risultati fu una grande dimostrazione addirittura anche dal punto di vista legislativo a un certo punto vi ricorderete forse che fu fatto un decreto che impedì ai giudici di pace toccammo il codice di procedura civile per ostacolare questa massa di consumatori che andavano a chiedere anche illusoriamente in parte giustizia un disastro da lì nacque il dibattito sulle class action che ha fatto strada che ha portato l'Italia come altri paesi europei a legiferare e tra l'altro tra le prime poche ancora class action pendenti una è proprio quella di altro consumo e di un'altra associazione di consumatori al Tribunale di Genova sul caso Traghetti che è credo l'unico caso pendente che riguarda proprio la normativa antitrust risarcimento danni da normativa antitrust ovviamente subordinata al fatto che l'antitrust accerti la violazione purtroppo a livello europeo le cose vanno molto meno velocemente di quanto ci si aspettasse la commissaria Cröst da anni aveva fatto una bandiera del private enforcement e del fatto che all'interno del pacchetto del private enforcement ci fosse anche una group action efficace a tutela dei danneggiati non solo i consumatori anche le imprese non dimentichiamoci mai che i danneggiati da una violazione antitrust spesso sono anche le imprese magari le piccole imprese e purtroppo ad oggi a livello europeo i risultati non si sono visti anzi è notizia di ieri che la commissione ha annunciato che presenterà prima dell'estate una proposta sul private enforcement ma che non comprenderà il tema del cosiddetto collective redress quindi si parlerà di armonizzazione delle azioni di risarcimento dei danni da violazione antitrust per quanto riguarda l'onere della prova per quanto riguarda l'accesso alla documentazione quindi la disclosure per quanto riguarda i programmi di clemenza quindi su questi temi ci sarà una proposta di armonizzazione ma di group action non se ne parlerà pare che sappiamo che l'opposizione a livello sia parlamentare che di stati membri è molto forte beh questo è un peccato perché mi viene da pensare anche se questo pubblicamente non viene dichiarato che dietro questo problema c'è anche il fatto che c'è la crisi economica e forse la domanda che adesso ci dovremmo porre è non solo oggi non solo qual è il futuro e qual è la cultura della concorrenza in Italia e nel mondo ma qual è il futuro della cultura della concorrenza in un'economia in crisi perché questo è un elemento che secondo me temo non facilita certamente le cose e dietro questo però c'è un altro dato culturale che vi propongo ed è il seguente è il pensare che la tutela dei consumatori la class action forse persino la concorrenza tutte le misure che servono ad aprire i mercati che servono ad aumentare la scelta dei consumatori la mobilità l'eliminazione degli ostacoli all'accesso alle più diverse attività economiche eccetera tutto questo sotto sotto qualcuno pensa che siano dei lussi che siano dei lussi che queste cose ce le possiamo permettere quando le cose vanno bene ma quando c'è la crisi è meglio pensare a mettere le pezze un po' qua un po' là e non è il momento di pensare a dare più libertà o a dare più come dire a creare anche più concorrenza se vogliamo beh io penso che questa sia un'idea drammaticamente sbagliata drammaticamente sbagliata anzi mi avrebbe da dire noi lo stiamo dicendo già da un po' di anni anche a livello europeo che l'uscita della crisi si fa con una politica dei consumatori più forte non più debole più forte se vogliamo che l'uscita sia solida e duratura se vogliamo mettere delle pezze per perdere un po' meno o per salvare qualcosa di insalvabile probabilmente la concorrenza e la tutela dei consumatori non serve ma se vogliamo uscire davvero in una direzione giusta invece quelle cose servirebbero temo che in questo momento a pensarla così siamo in pochi sicuramente tra i pochi c'è anche l'autorità antitrust sicuramente ci sono le associazioni dei consumatori almeno quelle come l'altro consumo non so se anche quelle dei sindacati spero di sì e speriamo di non restare così a lungo ancora a lungo così soli e così pochi come siamo oggi grazie grazie Paolo allora è previsto uno spazio più o meno di una mezz'oretta di domande dibattito anche da voi penso che ci siano sì microfono disponibile oppure se qualcuno vuole pensare un attimo scrivere una domanda possiamo iniziare sono Paolo Bucci Rossi io volevo chiedere al professore Cipolletta se lui ha citato la corruzione tra privati come un fenomeno che ostacola la concorrenza se non pensa che anche le partecipazioni incrociate tra le imprese non siano di fatto poi un ostacolo allo sviluppo di mercati concorrenziali grazie sì le partecipazioni incrociate evidentemente hanno il vantaggio di essere almeno esplicite la corruzione invece non è esplicita è implicita è ovvio che le partecipazioni incrociate in termini quando sono di ostacolo effettivo alla concorrenza vanno in qualche maniera sciolte e pure lì abbiamo cominciato a vedere qualche timido passo verso questa direzione soprattutto nel sistema bancario attraverso le direttive e la disposizione di legge l'interlocking che c'è stato e che quindi va in quella direzione però io penso veramente che il problema principale sia quello che è sotto che rappresenta per molti imprenditori dei grossi problemi e quindi alla fine è un danno anche per il consumatore ma quando noi pensiamo a molti uffici acquisti delle aziende a come essi si comportano alcuni si comportano bene ma molti hanno dei veri e propri rapporti di scambio con le imprese con cui sono fornitrici e nessuno dice niente perché viene considerato questo qui come un fatto normale a volte magari viene fatta l'insaputa del CEO della missione del delegato allora in questo caso viene condannato molte volte non è fatta l'insaputa ma è proprio una pratica quella di avere degli scambi che non sono corretti ecco buongiorno a tutti sono Armelindo Lungaro dell'ordine commercialisti di Monza volevo portare un contributo se poteva essere interessante su come il tema anche della legalità e quindi un po' quello che diceva il dottor Cipolletta della corruzione ma in generale del rispetto delle leggi degli adempimenti in materia di salute e su lavoro degli adempimenti contributivi in generale possa essere anche un ulteriore elemento poi su cui puntare per garantire le forme di concorrenza leale e partendo da questo ragionamento volevo segnalare anche un'iniziativa che è stata di recente sviluppata da parte dell'antitrust che è il regolamento sul rating di legalità è uno strumento innovativo uno strumento che tende e ha l'obiettivo di premiare le imprese che investiranno sulla legalità e anche su delle forme di etica e di corporate social responsibility e quindi non so anche questo aspetto come può essere visto anche dal vostro punto di vista se è un tema che può essere attenzionato e considerato grazie io provo a dare una risposta e questa non c'è l'autorità sul tavolo ma è qui vicino quindi io invece do una risposta problematica e non quindi la mia sensazione è che l'ho detto prima nel mio intervento è che la proliferazione di competenze diverse esplicite dalla tutela della concorrenza attribuite all'autorità antitrust presenti il rischio quindi una è questa del rating di legalità poi abbiamo i conflitti di interesse poi c'è il codice del consumo poi ci sono le clausole vessatorie io vedo e lo dico in modo problematico il rischio che ci sia un effetto di distrazione dalla tutela invece del principale della concorrenza e quindi l'attività diciamo core esatto si posso aggiungere che ovviamente la carenza di rispetto della legalità è di per sé un fattore che rende la concorrenza difficile da essere applicata e è una distorsione pensiamo banalmente alla longaggine delle cause civili che finiscono in una qualche misura per rendere la parte diciamo più debole soccombente comunque anche qualora avesse ragione e quindi si trova a non poter ricorrere a quello strumento normale che è quello della causa e di avere e di vedere in tempi relativamente rapidi riconosciuto il torto o la ragione delle persone quindi è un diciamo la legalità è un quadro generale all'interno del quale tutto si tiene senza rispetto alla legalità non è soltanto il problema della concorrenza c'è tante altre cose che non vanno ma io penso che l'antitrust non corra rischi di intasamento almeno finora segnali di questo tipo non ne ha dati piuttosto un problema che posso porre riguardo all'attività dell'autorità antitrust non solo italiana è un problema che si sta ponendo anche a livello europeo è quello del fatto che sempre più spesso non lo pongo in termini di problema è un fatto che sempre più spesso i procedimenti soprattutto in materia antitrust ma anche in materia di tutela del consumatore più diretta quindi pratiche commerciali scorrette pubblicità ingannevole terminano con i programmi appunto di di clemenza quindi con gli impegni sostanzialmente ora perché questo che è un fatto in sé non obbligatoriamente negativo anzi diciamo che giustamente l'antitrust che non è un giudice ma che è un'autorità di regolazione del mercato mira anche ad un risultato in tempi rapidi certo possibilmente con obblighi che vengono adempiuti quindi tutto questo ha un valore aggiunto dov'è che si può porre in prospettiva e forse neanche poi tanto lontana un problema beh che se leghiamo se nel contesto della della competition policy ci sta anche quel particolare tipo di enforcement che è dato dal risarcimento dei danni e io come rappresentante dei consumatori non posso non dire che c'è anche questo no la class action non è altro perché gli americani se la tengono così stretta la class action con magari qualche correzione sciocchezze il cuore se lo tengono stretto perché serve al mercato perché serve al mercato non c'è dubbio è uno strumento di regolazione del mercato forse addirittura a volte troppo violento troppo americano e io non voglio importare il modello americano in Europa sia chiaro però il meccanismo per cui chi sbaglia paga o rischia di pagare anche non obbligatoriamente salato il giusto è uno straordinario strumento di tutela del mercato a vantaggio dei consumatori danneggiati ovviamente e a vantaggio delle aziende che non hanno violato le regole perché le compagnie assicurative che non facevano parte di quel cartello degli 39 e i produttori di pasta che non facevano parte di quel cartello dei 30 e via eccetera eccetera hanno tutto il diritto a che chi si è scambiato delle informazioni vietate ha tenuto i prezzi ha avuto il vantaggio competitivo di poter tenere dei prezzi più alti grazie alle informazioni restituisca il mal tolto giusto? questo è il meccanismo della class action allora dov'è il problema? il problema è che nei casi antitrust a differenza di altri se non c'è l'accertamento della violazione da parte dell'autorità antitrust la class action bella o cattiva che sia in Italia ne abbiamo una che non è particolarmente come dire non è una Ferrari come si stanno dimostrando però lento o veloce buona o cattiva non funzionerà mai in materia antitrust perché se l'accertamento mancherà perché l'antitrust accetterà le dichiarazioni di impegno la causa civile è destinata a morire sul nascere a meno che questo però è un tema de jure condendo in gran parte e questo vale anche a livello europeo peraltro a meno che gli impegni non vengano subordinati anche al risarcimento dei danni ma questo è un tema aperto Allora abbiamo uno e l'altro due e tre Sì avevo una domanda per il dottor Martinello lei ha sfiorato nel suo intervento un elemento di novità recentemente introdotto in codice del consumo che è appunto quello della tutela nelle piccole e medie imprese volevo chiederle se questo elemento di novità poteva costituire un rispetto al ruolo delle associazioni anche da un punto di vista di sinergia di cooperazione con le altre associazioni di categoria considerato che le istanze in tema di enforcement saranno esattamente le medesime e quindi come vede la posizione della vostra associazione in generale dell'associazione dei consumatori rispetto a questa importante novità introdotta nel codice del consumo Allora io la vedo assolutamente in modo positivo noi abbiamo sempre detto e non perché lo pensiamo ma perché è evidente nei fatti che quando si parla di concorrenza e quando si parla di tutela dei danneggiati da comportamenti illeciti concorrenzialmente illeciti consumatori e piccole imprese sono esattamente nelle stesse condizioni tant'è che da lì è partita la commissaria Croest nella sua policy di private enforcement da lì è partita non ha mai fatto distinzioni tra danneggiati di un tipo o di un altro tipo purtroppo però purtroppo devo dire almeno in Italia ma anche in Europa perché me lo sono sentito dire tante volte anche a Bruxelles beh questa comunità di interesse da parte delle piccole e medie imprese io non l'ho mica vista tanto manifestata in Italia non parliamone adesso qui con tutto il rispetto per Confindustria ma l'interesse delle piccole e medie imprese quando si è parlato di azione di classe in Italia è stato assolutamente come dire coperto dall'interesse delle grandi io posso capire benissimo che è una grande allora no non lo posso capire nemmeno tanto per le grandi imprese perché come ho appena finito di dire è nell'interesse delle imprese oneste e corrette che chi sbaglia paghi e paghi il giusto non eccessivamente senza deformare paghi il giusto ma che diciamo ci possa essere in qualche modo una timore una prudenza delle grandi imprese di fronte a uno strumento che verosimilmente potrà colpire loro in particolare lo posso capire secondo me sbagliano ma lo posso capire ma che le piccole imprese si facciano rappresentare dalle grandi su questo tema della tutela di fronte alle violazioni antitrust è un paradosso quindi io come consumatore dico voi avete esattamente lo stesso problema che abbiamo noi ma evidentemente loro non ne sono così consapevoli o l'impressione o forse lo sono ma non possono dirlo la mia più che una domanda è un un suggerimento nell'ambito del tema generale della cultura della concorrenza secondo me entra sicuramente un problema evocato alla fine della relazione di Martinello e cioè il ruolo della concorrenza in un momento di crisi dove momento di crisi che stiamo vivendo allora si deve applicare il quesito è questo si devono applicare le vecchie antiche consolidate regole della concorrenza che sono state fatte pensate in un momento di crescita o di potenziale crescita anche in un momento di grave crisi quale quella attuale io sono convinto che un aggiustamento delle applicazioni delle norme antitrust in un periodo di crisi abbia le sue regioni mi permetto di ricordare che negli Stati Uniti che nella GVB tedesca c'era il paragrafo 4 intitolato cartelli da crisi e i cartelli da crisi erano a certe condizioni esentati la storia della commissione ha nei decenni diversi casi in cui è intervenuta nei cosiddetti cartelli da crisi le fibre sintetiche ci sono tanti altri casi nei decenni allora la crisi può intaccare e rilevare la collaborazione in tema di collaborazione orizzontale tra le imprese la crisi ha un'influenza nell'applicazione delle regole contro gli aiuti degli Stati la crisi può avere un'applicazione in campo di ammissioni o di vieti delle concentrazioni basta che noi pensiamo per esempio alla dottrina del failing company in un mondo e la failing company diceva no no è meglio che un'impresa che non funziona più sia lasciata cadere dal mercato con tutto quello che ne consegue Tesauro fece una magnifica sentenza quando era giudice alla corte di giustizia sono convinto però che gli effetti negativi di una applicazione rigida delle norme antitrust in un momento di crisi non sia la misura più efficiente e concludo solo con un esempio stiamo parlando in questi ultimi due anni in Italia dei contratti di rete tutti quanti abbiamo parlato studiato tutte le associazioni si fanno promotrici dei contratti di rete che riguardano in particolare le piccole imprese piccole e medie imprese ora fra gli obiettivi per tenere in piedi per rendere efficiente dei contratti di crisi c'è quello dello scambio di informazioni e informazioni che se fossero fatte come lei ha detto Martinello come ha detto l'autorità nel campo per esempio nella decisione del 2000 delle compagnie d'assicurazione ha un effetto ma se questo scambio di informazioni faccio solo un esempio non fosse reso possibile quando si tratta di un contratto di rete che per definizione raggiunge e ingloba le piccole imprese le piccole imprese ne avrebbero uno vantaggio talmente da non poter più operare sul mercato e se le piccole imprese non operano poi sul mercato non c'è neanche l'interesse dei consumatori perché rischierebbero di non trovare il bene grazie io su questa cosa non ho nessun pregiudizio ho un pregiudizio da italiano nel senso che noi in Italia dei precedenti di esenzioni da crisi ce li abbiamo caso all'Italia per salvarla l'Italia abbiamo sospeso le regole della concorrenza sulla tratta Milano-Roma quindi il problema è questo cioè la teoria ci sta tutta assolutamente e forse anche non solo in periodi di crisi si potrebbe pensare a delle sagge misure che possano veramente incentivare la crescita e Dio sa quanto ne abbiamo bisogno tutti in questa fase il problema è che mi tremano i polsi a pensare a chi deciderebbe questa cosa e a come potrebbe essere attuata una cosa del genere in un paese come l'Italia dove appunto la cultura cioè se questa cosa fa parte della cultura della concorrenza è una cosa se nasce in una cultura che non è la cultura della concorrenza ma è la cultura del adesso abbiamo un motivo valido per fermare quel poco che c'è e mi preoccupa molto di più Roberto Chieppa segretario generale dell'autorità antitrust non devo intervenire oggi io intervengo domani ma visto che il presidente Petruzzella non è stato non è venuto oggi per un sopravvenuto impegno istituzionale una battuta vista sulle competenze su quello che è stato detto prima è evidente che tra tutte le competenze dell'autorità antitrust la mission principale rimane l'antitrust la tutela della concorrenza insieme a questa la complementarietà del ruolo della tutela del consumatore è anche evidente che nel corso negli anni si sono stratificate una serie di competenze ulteriori da ultimo sono state prima richiamate molte non le abbiamo chieste noi ma diligentemente le attuiamo ora l'importante è che questa attribuzione di competenze rientri all'interno di un disegno unitario che vi sia una logica una cosa sono i pareri da emettere in alcuni processi di liberalizzazione o di tentativo di liberalizzazione una cosa sono le nuove competenze ex articolo 21 bis per impugnare gli atti amministrativi le esili dei principi della concorrenza il rating delle legalità è qualcosa forse ancora da scoprire anche questa è una cosa che non abbiamo chiesto ci è salutato ma diligentemente lo abbiamo attuato poi c'è la parte di attuazione dei ministeri che è ancora in ritardo quindi forse per questo ancora non è chiaro le dimensioni che avrà la concezione di questo rating noi li stiamo già concedendo questa della fase di attuazione pure rispetto a quello che si è detto nella prima parte della giornata molto spesso si dice si è avviato un processo di liberalizzazione è stato ricordato quello che ha detto l'autorità il presidente sul fatto che sia un processo una sorta di work in progress molto spesso noi nel nostro ordinamento in Italia siamo carenti nella fase di attuazione e anche tutta la storia del decreto 1 2012 contiene molti buoni principi di liberalizzazione che poi devono essere attuati se vediamo quanti sono rimasti inattuati e quanti sono stati attuati non in modo del tutto corretto probabilmente questo work in progress ha avuto degli stop and go vi sono competenze che potrebbero essere date anche altrove è stato ricordato all'inizio quella sul conflitto di interessi il conflitto di interessi non necessariamente deve essere allocato presso l'autore di antitrust ma mi sembra che possiamo convenire sul fatto che il problema del conflitto di interessi in Italia non è dove è allocato ma è il contenuto sostanziale della legge e su questo vi invito a leggere l'ultima relazione al Parlamento che ha fatto l'autorità garante della concorrenza del mercato in cui vi è una parte propositiva di seria critica all'attuale sistema con una serie di proposte che si avvicinano molto più al sistema che impose all'epoca a Bloomberg di cedere parte delle sue partecipazioni su quello che dice il dottor Martinello il rapporto da impegni imparato in forza ma qua ho un'idea molto chiara ma siccome consiste il mio intervento di domani rinvierei a domani c'è ancora una domanda in alto intanto do una notizia di concorrenza politica che Morini non è passato sul secondo voto oggi sì sono Andrea Parrella general canso del gruppo ferrovie dello stato mi riallaccio all'intervento del dottor sanfilippo semplicemente per dire che in relazione ai programmi di compliance antitrust nell'ambito insomma del mondo dell'impresa in particolar modo delle grandi aziende che ancora di più di quelle che vengono da un passato evidentemente insomma monopolistico qual è quello del gruppo ferrovie dello stato siamo pienamente d'accordo lo stiamo da tempo attuando e mi domando e domando visto che sono stati citati una serie diciamo di di ICC Business Europe and whatsoever ok se non sia il caso di cominciare a individuare diciamo delle forme di graduali esenzioni di responsabilità tipizzate per le imprese più virtuose perché poi è un fatto noto la storia dell'uomo lo insegna insomma che laddove tu insomma in qualche modo offri un'opportunità insomma di questo tipo evidentemente sia anche più disponibile a rispetto di cerchio di regole e principi io credo che un'analisi costi di tipizzazione di questo tipo di responsabilità di esenzione di responsabilità rispetto al beneficio di introdurre sempre di più una cultura insomma della concorrenza nelle grandi ma anche nelle medie e piccole imprese insomma sia un fatto positivo e quindi voglio sapere se da questo punto di vista vi fosse qualche ulteriore iniziativa rispetto a quello che ad oggi consta a me poco molto vicino al niente chiudo semplicemente con un'osservazione visto che il titolo dell'applicazione delle regole della concorrenza in Italia mi raggancia a quanto ho detto anche dal un ottimo intervento del dottor Soto in Spagna dove si è stato detto che il monopolio privato spesso è più perverso di quello pubblico cioè non sarebbe male se tutti quanti noi e gli altri interlocutori in questo settore insomma si levassero dalla testa l'idea che la gestione di parte diciamo del settore dell'economia da parte di un operatore pubblico possa essere qualcosa insomma di deteriore o comunque di meno efficace e efficiente rispetto all'atteggiamento di un imprenditore privato credo che l'esempio peraltro delle ferrovie dello Stato sia tale da poter in qualche modo fugare ogni dubbio su questo mentre ciò che è accaduto nel passato quando si è in Italia sovrapposta in modo disordinato la politica di liberalizzazione e di privatizzazione per cui spesso sono state privatizzate delle imprese pubbliche ad esclusivo beneficio di un monopolio privato il caso degli acciai di Stato il caso dell'autostrade il caso delle BIN delle banche interesse nazionali credo che siano tali da insegnare a tutti noi che il pubblico può essere una sete corretta e opportuna di gestione non solo nelle fasi di recessione di crisi la crisi del 29 e quindi l'effetto in Europa e in Italia con la costituzione dell'Iri negli anni 30 che credo sia una storia troppo spessa e volentieri dimenticata rispetto alla storia più recente tutto qua quindi credo che vada tutto un pochino più correttamente contestualizzato e vada insomma e riconosciuto insomma a ciascun operatore il suo corretto spazio grazie grazie mille penso che se non ci sono altre domande possiamo concludere qua vuoi fare un commento solo un commento su questa sollecitazione che abbiamo ricevuto sui programmi di compliance sì sicuramente il tema del rewarding dei programmi di compliance è un tema delicato perché chiaramente le aziende le imprese mettono in opera questi programmi di compliance per un interesse innanzitutto autonomo di doverlo fare certo se ci fossero degli incentivi dei benefici anche dal punto di vista dell'applicazione del diritto alla concorrenza da parte delle autorità di concorrenza questo darebbe un ulteriore incentivo a me pare che nell'esperienza francese questa cosa poi il presidente la SER magari la potrà raccontare anche negli esempi di dettaglio magari domani quindi questo sicuramente aiuta forse però ecco non è per questo che dovrebbero essere fatti forse la sollecitazione e il suggerimento che lei dava mi sembra interessante ed è sul perimetro delle responsabilità per esempio individuali ecco questo sicuramente in una logica tipo 2-3-1 ecco questo può essere può essere un tema su cui si può lavorare e secondo me questa è una strada utile così come anche sempre nella stessa direzione nei rapporti tra società capogruppo e società filiali anche in questo diciamo l'applicazione di programmi di compliance che poi invece seri ovviamente robusti che però non vengono rispettati da singoli individui o da singole filiali ecco questo può essere invece valorizzato nel momento della definizione di una di una sanzione grazie mille a tutti e speriamo di rivederci al perestro grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille